Stiamo girando un video alternativo Ma molto alternativo Molto molto alternativo Però io non centro eh Giada No no io non centro proprio Tu centri sempre Lui si tira indietro ma intanto diciamo che il 10 febbraio al Cineteatro d'Inzago Giada Ore 21 Ore 21 Torneremo con un nuovo video ma stavolta sarà veramente alternativo Ma molto alternativo Però non mi tirate sul palco per favore Perché lui è già alternativo di suo Ma diverso da voi però eh Vai uno due tre No 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 La rifacciamo Dai dai rifacciamola Sono venuto male Giada ma non viene via più eh Peggio di prima guarda qua Dai Oh Eh Non sapevi Ho già fatto uno scherzo Ho detto che Davi Giada ma non va via davvero Non sa di no E' tanto in di pirla Va bene stessa Chi se ne frega Ma non la rifacciamo Grazie a tutti.